Ragazzi, lei fa parte dell'antigiuria di Ballando con le stelle, c'è ancora o è caduto? Eh sì, c'è qualcuno che ha chiamato per telefono. Ah ok, ok. Fa parte dell'antigiuria di Ballando con le stelle. Una degli altri dei giudici invece della giuria, che è Selvagio Lucarelli, è un'opinionista molto famosa su Facebook, è una delle più acerrime nemiche del centrodestra nazionale, ma anche Lombardo. Lei che cosa si sentirebbe di dire a Selvagio Lucarelli quando parla di politica? Ma guarda, lei è una giornalista professionale, professionista, e devo dire che anche contro di me, quando sapendo che io venivo dal centrodestra, venivo da vicino Berlusconi, quando ho fatto Ballando l'anno scorso, mi attaccava in qualsiasi ballo che facevo, non gli andava mai bene niente. Però, dopo alla fine, devo dire che l'ho azzittito, e lei ha detto ah, razzi mi azzittito, non posso più replicare perché... Ma è normale, nel coso fanno tutti il loro gioco, cioè tendono di fare innervosire anche noi che ballevamo, specialmente contro i politici. Ma guarda caso, c'erano i ballerini, quelli che sono andati anche quest'anno, erano tutti del centrodestra, e lei naturalmente ci andava a nozze. Cioè, vi date al ballo invece che all'Ippica, praticamente. Vabbè, comunque, comunque.